Amici, buongiorno! Sapete che ogni tanto, quando posso, cerco di arricchire il mio canale con altre voci, però sempre voci di persone che fanno qualcosa di importante per Milano. E oggi qui con me c'è Marco Bascappè, che è il coordinatore di Milano Attraverso, e di questo importante progetto vorremmo parlarvi, ma fallo tu Marco. Grazie Carlo, saluto a tutti. In poche parole, poi abbiamo tempo di parlarne meglio, Milano Attraverso è una rete di 36 soggetti culturali importanti della città di Milano, che hanno deciso di fare rete e sono riusciti a farlo, a mettere insieme le proprie intelligenze e le energie per offrire una cosa nuova, una cosa nuova ai cittadini che in estrema sintesi, un'altra volta, scusate se mi ripeto, in poche parole, un'esperienza di ricerca storica partecipata. Poi vi racconterei meglio cosa nei dettagli. Marco è anche dirigente dell'archivio del Golgi Redaelli, che è, per chi non è milanese, un'importante azienda di servizi alla persona, cioè servizi per chi ha bisogno per motivi di salute o di età. E in questo archivio del Golgi Redaelli sono confluite i documenti, i testi, le memorie, di una serie di istituzioni milanesi, molto antiche anche, e che sono state molto vicine alla gente, proprio perché parliamo di gente che di assistenza aveva bisogno. Gente… e quindi è molto adatto, diciamo, questo archivio per un progetto che è basato sulla memoria diffusa della popolazione, anche di chi non scriveva la storia, non sapeva magari nemmeno scrivere, però era testimone di tante cose. Sì, hai detto bene. Oggi il Golgi Redaelli ha una finalità principale, che è quella di assistenza geriatrica attraverso l'Istituto Golgi di Bettegrasso, l'Istituto Redaelli di Milano e quello di Vimodrone. Ma ha radici storiche molto più antiche, che risalgono all'inizio del Trecento e dalle eredità, come sai, i documenti viaggiano molto. Non abbiamo solo i documenti di questi 40 antichi luoghi piremosinieri confluiti nel nostro ente, ma di famiglie, di altri enti che si sono fusi, che si sono estinti e la cui documentazione è finita da noi e quindi arriviamo ad avere documenti dal 1014 fino ad oggi. quindi pergamene, carte, fotografie storiche, registri, ogni tipo di fonte, ritratti, ritratti dei benefattori, quadri. Tutto questo racconta tantissime storie. La faccio estremamente breve, ma questo è l'importante. Quello che si può incontrare da noi è sempre sorprendente. Storia del territorio, storia della città di Milano, storia in effetti delle classi umili, storia di chi invece aveva ricchezze da lasciare ai propri simili. Però, però, attenzione, che qui noi, con Milano attraverso, noi non stiamo parlando semplicemente di raccogliere la documentazione di un certo gruppo di enti. Qui stiamo parlando di raccogliere la documentazione diffusa tra la popolazione. Stiamo parlando delle foto, stiamo parlando della, non so, della persona che ha la foto del nonno, che aveva una magnifica trattoria, che era un punto di riferimento. Stiamo parlando di quello che sa che durante la guerra lì c'era una caserma, c'era la contraerea, c'era quello che volete. Sa, c'è una memoria diffusa che consente, se raccolta e se accoppiata alle cartine, alle mappe storiche, consente di aggiungere una dimensione alla nostra percezione fisica della città. Cioè, quando andiamo in giro, non vedremo più le solite tre dimensioni, destra, sinistra, avanti, dietro, alto e basso, ma vedremo, sapremo cosa c'era prima di quell'edificio lì. Che cosa... e quindi aggiungiamo il tempo, aggiungiamo una dimensione preziosa alla nostra conoscenza fisica della città. E quindi entrare in questo sito, dove questo è possibile, questo viaggio nel tempo, è un'esperienza emozionante ed è un'esperienza che vi porterete dietro, perché poi quando camminerete per le strade, vedrete anche quello che c'era prima e che è rimasto nella vostra memoria. Quindi è un'opera molto importante. Sì, ringrazio Carlo di aver chiarito appunto questa possibilità di viaggio su più dimensioni. Giustamente parlavi del sito, il sito web www.milanoattraverso.it contiene, io dico uno strumento per un viaggio nel tempo davvero molto potente, che ospita storie, foto, immagini, documenti, che possono permettere di incrociare davvero dimensioni e tempi diversi. In estrema sintesi, al centro del portale vedrete mappe, potrete, aprendo quella pagina mappe sul fondo di Google Maps, che quindi è la mappa della Milano di oggi, continuamente aggiornato come quello di Google Maps, posso vedere però la Milano del 1855, quella del 1884 ed è proprio la mappa Vallardi del 1884 che è stata sovrapposta in modo preciso e permette con trasparenza e giochi di dissolvenza di cogliere le trasformazioni di porzioni diverse della città con un dettaglio e una ricchezza già di per sé molto piacevole e anche sorprendente. Su queste mappe appunto ci sono le storie, ci sono le foto storiche che portano i cittadini, i video, le testimonianze, i racconti che ricostruiamo con il supporto di persone che lavorano appunto in realtà diverse o che portano esperienze nate anche da modi storici dell'arte, perché c'è la Galleria d'Arte Moderna, piuttosto che appunto archivisti storici, gli esperti di storia ebraica, il CEDEC, per dare proprio soltanto tre realtà diverse tra le molte. C'è il sito web e in effetti poi dici andando per strada. Il progetto di un attraverso non è solo il portale web, è un progetto di rete che fa delle cose insieme, che offre delle occasioni di incontro e quindi vi invito a iscrivervi alla newsletter o a tornare a guardare spesso la pagina web o anche la pagina Facebook di Milano Attraverso per essere aggiornati su occasioni di incontro, passeggiate tra i monumenti, conferenze davanti all'opera d'arte, visite teatralizzate come si sono ripetute in questi mesi e andremo avanti nei prossimi anni. È un progetto molto grande che cambierà la percezione della città, non è una cosa da poco ed è un progetto che si sta allargando e non è stato facile immagino partire, forse puoi dirci un po' delle zone che si stanno aggiungendo a questo progetto. Siamo partiti sperimentalmente con due zone della città, due zone molto diverse e abbastanza lontane, per quanto possono essere lontane a Milano, che non è grande come New York o come Londra. Dalla zona di Via Padova avete forse presente quella meravigliosa realtà che è il Trotter, il Parco Trotter, l'ex Trotter, l'ex Parco del Trotto diventato Scuola All'Aperto e che ospita anche questa associazione culturale, gli amici del Parco Trotter, che è la Casa del Sole che ha da anni iniziato a raccogliere le testimonianze storiche di chi vive via Padova e l'intorno. Quindi una zona è quella e l'altra zona è quella che si sviluppa intorno all'asse dei Angeli Bandenere, abbiamo voluto dire, al confine tra due zone, zona 7 e zona 6, ma partendo da luoghi più centrali come Piazza Wagner, dove c'è l'antico borgo di San Pietro in Sala, lì era la parrocchia da cui dipendeva tutta questa zona, fino ad arrivare a Via Soderini, comprendendo trasformazioni da storia rurale a storia industriale, la famosa De Angeli Frua, con il villaggio operario della De Angeli Frua, con poi la trasformazione invece di alcune aree puramente rurali in istituti, il Tribulzio, poi appunto quello che oggi è il Re Daelli fino a Don Orione, l'abbattimento di cascine meravigliose come l'Arzaga o l'Arestoco, la trasformazione di una zona di Rimarcite nell'attuale Via Soderini, queste cose sono veramente sorprendenti e le stiamo scoprendo grazie appunto ai cittadini. Come dicevi, si sta allargando, siamo partiti un po', come dire, sperimentalmente, il progetto ha dato dei frutti molto belli, tra cui un filmato, un bel documentario sulle storie di Abadova e dintorni attraverso vicende di vita di chi è venuto a vivere lì, dalla Puglia piuttosto che dal Veneto, e racconta l'esperienza di una migrazione diversa da quella odierna, e dall'altro lato due mostre fotografiche che sono visibili per tutto il mese di ottobre fino all'inizio di novembre nelle due realtà, al Trotter e dentro l'Istituto Re Daelli. E adesso si stanno aggiungendo altre zone, no? Infatti, grazie alla rete delle biblioteche che sostiene con entusiasmo il progetto, presso la biblioteca vigentina viene lanciata un'iniziativa simile che non parlerà solo del corso di Porta Vigentina che è centro, ma dall'antico borgo di Vigentino, zona Ripamonti, fino ad arrivare alla Crocetta, quindi con questo tentativo sempre di individuare delle zone ampie che permettono di cogliere il senso delle trasformazioni urbane, nel passato e nel presente, guardando anche un po' il futuro. Esatto. Questo è l'ambizione. E quindi praticamente se un milanese ha delle belle foto e vuole condividere, oppure delle memorie, vuole condividere queste esperienze, cosa deve fare in pratica? Se vuole mettersi in contatto con noi, noi siamo molto contenti, con questo spirito di servizio, quello che noi non chiediamo... Mi viene in mente una frase di Duccio Demetrio che dice ci sono tanti ladri di storie. Noi non vogliamo rubare le storie, vogliamo invece chiedere a chi vuole come stiamo condividendo i contenuti dei nostri archivi che ha piacere di condividere i propri, l'archivio di famiglia, la storia del nono, ritagli di giornale, materiali che possono diventare particolarmente interessanti e credo anche arricchirsi nel momento in cui vengono immessi in un contesto più ricco che è proprio la mappa storica. Sovrapposto a Google Maps già, se una foto, io dico che può sembrare banale, una foto di Piazza Velasquez, Angolo Viorendra, che ci ha dato una signora una foto degli anni Ottanta, quindi stiamo parlando di non tantissimo tempo fa, diventa interessante se è piazzata nella mappa storica di Milano di quel periodo e sovrapposta ad altre, come dire, unita ad altre che sono raccolte da altri cittadini piuttosto che dalle istituzioni. Quindi quello che possono fare è poi mandarci una mail, che contatto sul sito Milano Attraverso troverete sia il telefono che la mail, e la mail la dico subito è milanoattraverso.gmail.com Perfetto, e quindi praticamente diciamo è una cosa nuova, è una cosa importante perché vi consentirà di divertirvi e di vedere Milano con occhi diversi, con occhi completamente diversi, perché non sarete più gli stessi quando avrete visto come la vostra zona era prima. Non la guarderete più con gli occhi di prima, la guarderete in un modo diverso, in un modo più ricco. Ed è secondo me il motivo per cui facciamo questo video, è che secondo me è una cosa veramente importante, perché vedete, la conoscenza, la memoria, è minacciata non solo dai barbari, dalle guerre, come tante volte è successo in Italia, è minacciata anche dall'obsolescenza, dal cambiamento dei supporti su cui la conoscenza si trasferisce. È successo tante volte nella nostra penisola, il papiro ha dovuto essere sostituito dalla pergamena, poi la pergamena era troppo costosa, quindi dovevano cancellare i testi per scrivere delle altre, poi è arrivata la carta, poi è arrivata la carta stampata, e adesso la carta se ne sta andando. Ci sono altre forme di preservazione, infatti stiamo facendo un video, non un articolo, e anche le fotografie hanno un'obsolescenza, dopo cento anni una fotografia decade. Quindi bisogna salvarle, salvare le memorie, e questo è molto importante per la nostra città, anche perché è una città che si muove, è una città dove arrivano delle persone, arrivano, magari non hanno i loro nonni, sono rimasti in un altro posto, e allora non ci sono, non hanno le memorie, e bisogna costruirsi la memoria del passato vedendo com'era il luogo in cui si risiede. E quindi è un'opera di resistenza all'oblio, direi, e non è un'opera di retroguardia, di, diciamo, preservare la propria identità, non è congelare tutto e stare fermi, ragazzi. Assolutamente. Preservare la propria identità significa sapere perché siamo quelli che siamo oggi, e cambiare cercando di prendere gli aspetti positivi dei cambiamenti e non quelli negativi. questo è quello che si vuole fare quando si parla di preservare la propria identità. Sì, mi piace molto quello che hai detto, diverse cose di quello che hai detto, ne volevo sottolineare due. Il fatto che, appunto, non è un'opera conservativa, come dicevi adesso, ma è un'opera, come dire, costruttiva, a volte anche al presente e anche al futuro, e secondo me questo è possibile perché è un'opera di intelligenza, di comprensione, non è puramente il conservare per conservare. È fondamentale, è molto importante che qualcuno si occupi di come preservare il digitale, per esempio. Quello che Milano attraverso offre, invece, è una rete, quindi mettere insieme le conoscenze, che è un primo passo importante, e cercare insieme di costruire dei quadri di lettura, offrire dei contesti per cui sia possibile poi trovarle le cose. Perché il tema di Google, di Internet, è l'indicizzazione. A volte penso ci vorrebbe, come dire, una specie di indice di tutti gli indici web per potersi muovere davvero e non perdere delle informazioni. Non abbiamo l'ambizione di renderlo così, come dire, universale, ma per la Milano, dall'Unità d'Italia a oggi, offrire delle chiavi di accesso anche a contenuti che non sono dentro Milano attraverso, ma con l'Inca fuori. E l'altra cosa è che è un'azione di confronto e quindi di pluralismo, questo ci tengo molto, il fatto stesso che siamo 36 soggetti diversi, alcuni con una loro identità anche culturale abbastanza forte, ma che dialogano senza per forza dover andare d'accordo su tutti, e la partecipazione dei cittadini. Questo per me è veramente l'anima di Milano attraverso. Gustatevi il sito, ragazzi. C'è poco da dire oltre a questo. Grazie Marco per questa cosa fantastica. E a presto, arrivederci presto e gustatevi veramente Milano attraverso e arricchitelo e vedrete che è una cosa fantastica. Arrivederci. Arrivederci.